Una vita di sacrificio e di sofferenze, ma anche di gioie. Ha lavorato nei campi sin da ragazzino, poi la guerra, la deportazione in Indie in un carcere duro che lo ha costretto a stare lontano dai suoi affetti per sei lunghi anni. A sei anni fuori di casa a non vedere la mia famiglia, guerri, sopraguerri, prigionia, prigionia. Un'esperienza dolorosa che non gli ha impedito di apprezzare le gioie della vita e di stare accanto a sua moglie Nuzza, conosciuta e sposata nel 1949. Da quell'unione sono nati cinque figli, quattro nipoti e altrettanti pronipoti. E' la storia di Giuseppe Meridoni che ieri, nella sua Briatico, ha festeggiato il secolo di vita. Una chiesa gremita di amici e parenti venuti da lontano per il compleanno di nonno Peppe, emozionato di vedere così tanta gente intorno a lui. Ma qual è il segreto della sua longevità? Glielo abbiamo chiesto. Ecco cosa ha risposto. Oh, sta pari su. E lo dica va? Più pranzino, oggi e pane. Dopo la targa ricordo, consegnata dal sindaco del comune costiero del Vibonese, sono iniziati i festeggiamenti in piazza, ad aprire le danze, il festeggiato. Da Briatico per la Cinews 24, Cristina Iannuzzi.